Con il numero quattro è il capitano, Carriero! Con il numero sette, Felipe! Con il numero otto, Rodrigo! Con il numero diciannove, Aestrara! Con il numero ventino, Dante! Con il numero vento tre, Andrea! Con il numero venticinque, Duvon, Dante! Con il numero trentuno, Alvaro! Con il numero perata, Juan! E con il numero ventino, Alcrisi, Felipe, Alberto, Ilito! Alcintone, qui castellati con il numero diciannove, Vito, Beret, il numero ventisette, Mattia Silvestre con il numero sei, Fredy Guarini con il numero quattordici, Lennon Albariga con il numero diciannove, Marco Berassi con il numero ventiquattro, Ibrei Mammaie con il numero quattro tre, Alcretacca con il numero quattro uno, El Cisero Giordano con il numero quattro due, Andrea Ronanò con il numero cinquantantue, Iuto, Nagatovo con il numero cinquantacinque, E Marco, Ripaia con il numero quattro dosso, All'allenatore, Andrea! Travaccioni! Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, si senti, Marco è arrivato a poco.